Sono Mirko, Mirko La Rosa e io insieme a mio fratello Io sono Nicola Rosa Abbiamo realizzato questa statua in miniatura del Patrono San Giorgio interamente in carta peste l'anno scorso durante la processione del sabato di San Giorgio è stata benedetta da Padre Floridia quest'anno purtroppo dovute le vicende che riguardavano il Patrono San Giorgio e San Giovanni diciamo che non siamo riusciti a organizzare questa altra piccola iniziativa capiamo perfettamente che era difficile organizzarla visto appunto queste problematiche visto che la festa è stata organizzata comunque anche all'ultimo minuto quindi capiamo che il plus non poteva essere organizzato magari per il prossimo, spieghiamo appunto per il prossimo noi saremo qui e vedremo cosa faranno i ragazzi i ragazzi sono molto comunque entusiasti, tutti i ragazzi alla parrocchia loro comunque sono stati i primi ad appoggiare la nostra idea ma devo dire che anche l'anno scorso Padre Floridia era molto entusiasta di questa opera anche perché ripeto comunque l'ha benedetto sicuramente sarà entusiasta probabilmente vista le vicende di quest'anno è stato un po' preso da queste cose grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.